Quinta, classifica, attesa, è finita, tra pochi minuti si comincia, vediamo insieme i protagonisti della gara. Abiternate incontro il signor Rosario, assistenti il signor Pavelano e Stefani, guarda un po' che c'ha il signor Pavelano, altri di fronte, i signori Banti e Giannotta. Comunichiamo le formazione delle squadre. Lazio, Francesca, con un'altra, con un'altra, con un'altra, con un'altra, con un'altra, con un'altra, con un'altra. Uniscirose, in unicirote, e devi andare, e di parta credesimo, perché è il signor Pavelano, e ti non e concom, 32 1-0 con il numero 1-7 cari a disposizione il numero 1-1 il numero 2-2-2-7 9 1-0 10 1-0 27 cari con il numero 3-0 e stanche vincius 32 1-0 con il numero 1-0 il numero 2-0 il numero 2-0 Antonio 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 il numero 1-0 Gianluigi Ruffo numero 3-8 Giorgio Giorgio numero 6-4 Giorgio 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 con il numero 12-0 Sebastiano Giorgio numero 15-0 Andrea Giorgio numero 19-0 Giorgio numero 22-0 numero 22-0 Quangolo numero 23-0 Arturo numero 27-0 Fabio numero 33-0 Maurizio Giorgio 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 A disposizione il numero 30-0 Stavari Puginio Louis Lusko Mario Pazquez 7 pimpi 15-0 20-0 Barwin 24 Carcherini 26 Richstainer 32 Mantri 39 Pagno sulle scuole jaf da quattro Joe dimensionale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.